Fiorenzo Runco, nuova giornata al Video Festival che si apre con la WISP, lo sport, ma anche il ricordo della resistenza e le montagne che si possono riconquistare al turismo. Sì, assolutamente sì, a me piace ricordare che il Video Festival è un bel contenitore, come ho detto questa mattina, un contenitore che va riempito con ottimi contenuti e quello che hai annunciato tu questa mattina è stato sicuramente un ottimo contenuto. Ora andremo avanti, domani comunque, sempre per festeggiare il nostro decimo compleanno, non vogliamo escludere nessuno, quindi domattina avremo una cosa per i bimbi, sempre a carattere sociale, però domani è la volta dei bambini. Avremo una rappresentazione teatrale dal titolo Chi ha visto la zanzara? Chi ha paura della zanzara? Ed è dedicato appunto alle malattie che possono essere trasmesse da questi insetti. Questo perché proprio nel nostro percorso del decennale abbiamo intenzione di toccare comunque temi sociali e comunque coinvolgere tutti quanti, dai più piccoli ai più grandi. E allora il Video Festival continua, Emilio Cordeglio, presidente provinciale della WISP, continua anche l'impegno della WISP, nel ricordo della resistenza e partendo da quelle montagne con un cortometraggio di Imperia TV, proponendo, insomma riproponendo le montagne per nuovi percorsi. Sicuramente sì, diciamo un mondo nuovo che abbiamo scoperto nel 2014 con i sentieri della memoria, che prosegue oggi con le Alpi del mare, con questa ambizione di poter far conoscere di più e meglio i valori di questo territorio della Liguria che è speciale, bisogna dirlo. Guardando da Imperia queste Alpi del mare non può che esserci il sogno di vedere sulle Alpi del mare la moltitudine di giovani della WISP. Speriamo che vanno a visitare, ma anche questa mattina in occasione della tavola rotonda dopo il cortometraggio ho notato interesse dai ragazzi e quindi credo che abbiamo fatto un buon lavoro, credo che proponiamo un modo di conoscere innovativo grazie a questo cortometraggio, grazie naturalmente a questo contenitore del Video Festival che è speciale per la città di Imperia. Io sono convinto che insieme potremo fare in modo che le associazioni escano dall'angusto localismo e arrivino a pensare di essere libere e libere vuole dire vivere una vita migliore quindi per le nostre famiglie. Grazie molte a tutto il lavoro che abbiamo fatto, al lavoro che hai fatto tu Andrea e credo che ci saranno sicuramente le occasioni per diffondere al meglio questo lavoro. Mi dichiaro contento, soddisfatto e quindi ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a questo risultato, grazie alla popolazione che è stata vicina a noi anche durante la proiezione questa mattina.